Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il documento di Economia e Finanza che fissa l'andamento dei conti pubblici. Nel documento il Governo ha confermato che l'andamento dell'economia sarà peggiore di quanto previsto finora, ma è stato più ottimista di quanto abbia indicato il Fondo Monetario Internazionale. In particolare, il prodotto interno lordo, cioè la ricchezza che il Paese produce in un anno, calerà dell'1,2% nel 2012, per tornare a crescere solo nel 2013, dello 0,5%. Nonostante il peggioramento dell'economia, il Presidente Monti ha confermato che nel 2013 il bilancio dello Stato si potrà chiudere con un deficit del solo 0,5% del PIL, e cioè sostanzialmente in pareggio. Sempre oggi il Governo ha anche presentato il Piano Nazionale per le Riforme, indicando le linee da seguire da oggi agli anni venturi per far ripartire l'Italia, che secondo l'Istat e gli ultimi dati del Centro Studi della Confindustria sta per affrontare la fase peggiore della recessione, con la caduta del reddito, dei consumi e dell'occupazione. Secondo Mario Monti, le riforme fino ad oggi prese dal Governo creeranno effetti positivi negli anni a venire. In particolare, le misure di liberalizzazione e di semplificazioni produrranno, secondo le stime ufficiali del Governo, un effetto cumulato sulla crescita del 2,4% tra il 2012 e il 2020, con un impatto medio annuo pari a una crescita dello 0,3% del PIL. Resta però ancora molto da fare, come conferma anche il risultato dell'incontro di ieri tra Monti e i segretari dei partiti che sostengono il Governo. Il Presidente del Consiglio ha precisato «Tornare a crescere è un'operazione di lunga lena». Per farlo, l'Italia si deve impegnare di più nella realizzazione effettiva delle opere pubbliche, nel rendere efficiente la pubblica amministrazione, nel proseguire con le liberalizzazioni, nel creare un ambiente più favorevole alle imprese e, tra gli altri obiettivi, in un impegno più forte verso la green economy. Grazie. Grazie.